Amici 22, allieva eliminata a causa dei fatti gravissimi a Capodanno si sfoga in privato, la chat. Sono giorni convulsi per i giovani allievi di Amici, il talent show più ambito d'Italia condotto da Maria De Filippi. Dopo i fatti gravissimi ancora non meglio specificati accaduti la notte di Capodanno. La produzione ha deciso di prendere seri provvedimenti. Nelle anticipazioni circolate sul web grazie alle talpe del programma, siamo venuti a sapere che sono stati eliminati, forse per ora. NDR, Tom Idali e Valeria Mancini. Quest'ultima è finita in sfida contro Cricca. Che è così rientrato nella scuola di Amici? Al momento non sappiamo cosa sia realmente successo la sera del 31 dicembre, su Twitter hanno iniziato a circolare alcuni rumor circa una miscela con la noce moscata che avrebbe gli stessi effetti della droga. Ipotesi che è stata però categoricamente smentita dalla sorella di NDG. Nelle ultime ore è iniziato a circolare una chat privata della Mancini. La giovane allieva si è sfogata con alcuni suoi fan in merito alla sua eliminazione dal talent. La cantante ha affermato di aver avuto un ruolo marginale sul misfatto e non meritava di andare via. Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione. Non doveva essere per me quel provvedimento. Dopo che la chat è stata resa pubblica, tutto il popolo del web adesso vuole sapere cos'è realmente successo. E chissà che non tirerà fuori la verità. Quella verità che ancora viene tenuta nascosta dalla stessa De Filippi. Aia de când mă știu textul-i plin de dude Dumele tante printre talea culte Încerc flow-uri sute la show-uri puite Cum rup capete lumea de din capă rupte. Bobele bat cu inima deodată nu le opresc Că nu s-a atât de nebun mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine Fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu Grapperul din Totto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe Mafia parată.